Carissimi amici, nel pomeriggio non so che ora appuntamento sul canale. Ebbene, da queste immagini così belle, estive, immagini di festa, gioiose, ebbene, un anno fa, giusto un anno fa, si consumava la tragedia di Viviana Parisi, del piccolo Joelle, suo figlio, quattro anni. Faremo un video di aggiornamento perché sono arrivato a conclusione tutte le perizie e scopriremo insieme esattamente come e perché esse sono, essi sono morti, come sono morti e perché. Quindi, vi do appuntamento, non so che ora, ve l'ho detto sul canale, nel pomeriggio, una vicenda molto triste, consumata proprio in questi giorni di agosto, in cui tutti, penso, sono un po' più sereno, cercano di essere, e invece questa tragedia proprio ieri ha trovato la sua parola finale. Le perizie hanno parlato molto, molto chiaro. Ci vediamo nel pomeriggio, vi aspetto numerosi, 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 aiutatemi anche a crescere con il canale, con queste informazioni. Un abbraccio a dopo.